azione ciao ciao ragazzo ragazzo è il titolo della palestra Raffaello è il mostro come? Raffaello dall'uccello enorme ecco la mia bestia ecco qui Mauro ma la bestia della palestra non ci posso non ci posso continui a girare la bestia di qua la bestia di qua 4 insieme a persone non ci sono tutto a muscoli ma vai e no ah no vai 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 Vabbè non fa male il cugino lontano di Zocchi Balboa l'altro è toccato poi c'è il video a lui il cugino di Ronaldinho l'altro è il cugino spaziale questo è Ronaldone questo è Ronaldone anche il bandano qui manda a Mustaine lui è il bandano secondo te quante serie farà Ronaldinho? 10 ok vediamo il personal trainer di Bruce Lee via un po' più lontano senza proprio l'obiettivo e con la ferma c'è pure Marco ma che tazze come siamo? se ne è il cugino che basta e quando ci c'è? eccolo lì sempre in forma vai un grido Dario un grido ed ecco lì il mandarino il cocomero pazzo 6 7 e questo non è niente questo è solo il gesto guay è subito giù pezzò no 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 non mi incartciate al futino eh ah 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 a ah 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 e poi tu te lamenta se ti vede tu amore no se l'hai segnato là mi cancelli proprio